se ti stai chiedendo chi è già da desideri l'attrice di un posto al sole sei nel posto giusto oggi ti racconterò tutto sulla sua carriera e sulla sua vita privata quindi preparati a scoprire nuovi dettagli sulla sua vita già da desideri ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione fin da giovanissima nel 1987 a soli 13 anni è stata scelta da luigi comencini per il film un ragazzo di calabria dove ha interpretato il ruolo di crisolinda da lì in poi ha lavorato con registi del calibro di ettore scola e luciano de crescenzo dimostrando fin da subito il suo talento e la sua passione per la recitazione il grande esordio di già da desideri sul piccolo schermo è avvenuto nel 1993 nella seconda serie dei ragazzi del muletto tuttavia il ruolo che la resa davvero celebre è stato quello di claudia costa in un posto al sole a partire dal 1996 dopo aver abbandonato il ruolo nel 2002 quest'anno ha deciso di tornare a interpretare la sua amata claudia costa regalandoci momenti indimenticabili davanti alla tv oltre ad un posto al sole già da desideri ha preso parte a numerose altre fiction televisive come don matteo a casa di anna e gente di mare la sua versatilità e il suo talento le hanno permesso di spaziare in diversi generi e di conquistare il cuore del pubblico italiano passando alla vita privata di già da desideri dal 2006 è legata sentimentalmente all'attore e doppiatore luca ward la coppia si è sposata nel 2013 con una doppia cerimonia celebrata prima al campidoglio e poi a fregene dal loro amore sono nati due figli lupo e luna che hanno reso la loro famiglia ancora più unita e felice luca ward ha raccontato in un'intervista che è stato lui a conquistare già da desideri sul set di un film dopo un iniziale scetticismo da parte dell'attrice luca ha dimostrato la sua premura e il suo affetto nei suoi confronti creando così le basi per una storia d'amore che dura da oltre 15 anni la famiglia di già da desideri è stata unita anche dalla malattia di marfan diagnosticata alla figlia luna nel 2010 questo momento difficile ha portato l'attrice a interrompere temporaneamente la sua carriera per dedicarsi completamente alla salute e al benessere della sua bambina dimostrando ancora una volta il suo grande amore e la sua dedizione alla famiglia in conclusione già da desideri è un'attrice talentuosa e apprezzata sia sul grande che sul piccolo schermo la sua carriera è costellata di successi e di ruoli indimenticabili mentre la sua vita privata è segnata da un amore profondo per la sua famiglia e per il suo compagno luca ward sicuramente continueremo a vedere il suo talento brillare sullo schermo e a seguirla con affetto e ammirazione